Oggi ragazzi vi porto un video che avrei voluto portare su questo canale da quando l'ho aperto e che avrei voluto portare su YouTube da quando l'ho conosciuto Vi ricordo che avevo 11 anni, vedevo i video degli YouTuber americani che facevano gli house tour, cose fighissime Ecco, oggi ho 21 anni e è il mio turno, perché come avete visto dal video che è uscito questo sabato e dai vari spoiler che ho fatto sul mio profilo Instagram oggi vi porterò finalmente il tour completo della mia nuova casetta Vi spiego un po' tutta la situazione nel mentre che vi faccio un po' vedere con l'ele dietro la telecamera e vi spoilerò un po' quello che sarà l'ambiente Ovviamente ragazzi specifico che sarà un video nettamente più lungo e parlato rispetto al solito quindi mettetevi comodi, mettetevi con un bel sacchettino di popcorn, una coca cola e godetevi questo signor video I veri fan sapranno un po' di cose in più magari rispetto a chi non mi ha seguito assiduamente In particolare nel luglio del 2021 ho registrato un video esattamente qua con un ambiente che era completamente diverso insieme a Viola nel quale vi parlavo del mio nuovo studio, del mio nuovo ufficio Infatti tutto questo ambiente che state vedendo e che tra poco vi farò vedere nel dettaglio inizialmente non doveva essere la casa di Yanno ma doveva essere un ufficio di Edoardo e di suo fratello Quello che è successo però in questo anno che è passato è che mio fratello si è laureato, è stato assunto in un'azienda Nella sua vita sono cambiate un po' di cose e quello che era inizialmente un progetto di entrambi è cambiato, è variato ed è diventato un progetto solo di Edoardo Quindi abbiamo ripreso tutto il progetto dello studio enorme che volevamo creare in tutto questo ambiente e lo abbiamo cambiato e modificato fino a farlo diventare la mia nuova casa Vi specifico l'ultima cosa dunque prima di cominciare ovvero che questa casa è stata completamente costruita da zero Quindi non è stato un immobile che è stato comprato e abbiamo ristrutturato Ma abbiamo avuto la fortuna di inserirci all'interno della costruzione di un condominio Questo quindi è un semplicissimo appartamento che stava proprio nascendo da zero Quindi tutto quello che vedete dall'arredamento ai muri all'idea di tutte queste cose Provengono da tanti mesi in cui mi sono messo lì Ho cercato di studiarmi il tutto come più lo volevo e quindi alla fine è venuta secondo me una vera figata Partiamo dunque dal portone d'ingresso che ovviamente è questo qua Accanto al quale abbiamo questa centralina che mi fa controllare tutta la domotica dell'appartamento Come vedete semplicemente dall'accendere o spegnere le varie luci Dall'alzare e abbassare le tapparelle, disattivare antifurti e cose di questo tipo Tutto assolutamente connesso con le nuvole Alla mia sinistra abbiamo questo fantastico armadio con effetto fumé Che ho scelto sia perché mi dà l'idea di moderno ma allo stesso tempo perché riesce ad allargare anche un po' l'appartamento Che voi ecco specifico qua probabilmente vedrete gigantesco in realtà Stiamo utilizzando un super grandangolare Non è assolutamente un appartamento piccolo però le dimensioni ovviamente sarebbero un po' da rivedere Per darvi un'idea delle cose che sto tenendo all'interno in questo momento Ho scopettoni e cose varie per le pulizie Di qua ancora non ho nulla perché ci dovrò mettere le giacche una volta che ci abiterò definitivamente E di qua ho varie cose che nella cucina ancora non ci stavano La prima cosa che salta all'occhio appena si entra è tutto questo grande open space Come potete vedere abbiamo deciso di fare cucina, salotto, sala da pranzo Tutte nello stesso ambiente con uno stile iper minimal Infatti come vedete abbiamo qui questa quinta centrale con tutti i vari oggetti che ci ho messo Ovviamente è ancora tutto in fase non definitiva Qui a sinistra e a destra vedete che c'è un po' di spazio vuoto Perché ad esempio sto aspettando l'impianto audio da associare a questo fantastico tv da 65 pollici OLED Veramente fantastico Qui attorno vedete che ho messo un po' di oggetti che mi rappresentano come obiettivi, macchine fotografiche Lui che in realtà non vi ho mai fatto vedere sul mio canale YouTube Ma che è il primo casco che io abbia mai utilizzato Se vi ricordate questa fotografia qua con la minimoto che ho postato anche sul mio profilo Instagram Indossavo proprio questo casco Avevo 8 anni, 9 anni e dopo pochissimo ci ho afficcato subito l'adesivo della GoPro per registrare Per farvi capire quanto ero già malato Un'altra chicca molto carina di questo salotto che mi piace tantissimo è questo divano Che come potete vedere ovviamente mi dà la possibilità di sedermi Cosa che non farò perché sennò poi non mi sentite più per il microfono Ma soprattutto mi dà anche la possibilità di tirare fuori qualsiasi cuscino tra questi tre In modo tale non solo da accomodarci allungando le gambe, mangiando i popcorn mentre si guarda la Formula 1 Ma dà anche la possibilità un domani nel caso in cui ci fossero degli ospiti di dormire in orizzontale Una persona ci sta super tranquillamente senza dover avere però il divano letto E è un po' più bruttino dal punto di vista estetico Anche ovviamente gli schienali si alzano per una migliore seduta Una chicca che i più esperti di casette avranno notato è che come vedete non ci sono assolutamente caloriferi Non ci sono condizionatori, non c'è nulla di nulla Perché in questo appartamento essendo completamente nuovo abbiamo sia il riscaldamento a pavimento Sia il raffreddamento a pavimento Infatti in questo momento qua ci sono 25 gradi Io da tutti questi tastierini che sono sparsi in giro per la casa ho la possibilità di controllare la temperatura nella singola stanza Quindi veramente tanta roba anche rispetto a casa mia che mi ammalo e prendo il raffreddore ogni volta Perché in camera mia ho 21 gradi, nel resto della casa ce ne sono 30 e quindi è una rottura di palle Qui abbiamo la cucina, un po' piccolina, un po' ridotta ma d'altra parte c'è qua Edoardo Iannone, non c'è qua uno chef Non so neanche fare un impiatto di pasta quindi dovrò imparare Viastra induzione che ho utilizzato un paio di volte, devo un po' farci l'abitudine perché a casa mia finora con i miei genitori avvolgassero È molto compatta ma alla fine siamo riusciti a farci stare tutto Come vedete c'è addirittura la lavastoviglie, c'è il forno microonde, il forno classico, frigo, freezer, insomma tutto quello che serve Tra l'altro mi dispiace non aver la possibilità di farvi vedere la vista esterna che è veramente carina Fuori c'è anche un balconcino però purtroppo nella mia casa vecchia è successo che entravano praticamente tutti i giorni i ragazzini suonavano, facevano eh Qua ho deciso che cercherò un po' di più di stare tranquillo nella mia privacy e con le persone che mi stanno attorno Detto questo venga alla prossima stanza, no non dimenticato di farti vedere cosa si cela dietro questa porta Francesca stai lì ferma? Ho appena fatto andare via la bambina che teniamo in cantina Questo qui raga è semplicemente uno stanzino dove in questo momento come vedete ho l'immondizia e un paio di altre cose Lo tengo chiuso perché è bruttissimo da vedere, rimarrà chiuso per la maggior parte del tempo Ci addentriamo dunque nel corridoio, vi faccio vedere in particolare il primo bagno che sarebbe il bagno degli ospiti Come vedete ci sono un paio di cose che vanno riverniciate, vanno riviste perché qui non è tutto in via definitivissima In particolare vabbè abbiamo semplicemente i nostri dei Evater Picca molto bella che è piaciuta prima a Lele che doveva urinare Che quando lasci cadere l'asse scende in automatico senza andare a sbatterla Di qui abbiamo la doccia per gli ospiti e qui dietro questo specchio che abbiamo sempre messo per allargare un po' la casa Abbiamo a sinistra questo mega praticamente frigorifero che serve per l'impianto del riscaldamento e del raffreddamento al pavimento Di qua a destra invece abbiamo fatto stare una lavatrice ed un'asciugatrice per i panni del mitico Eddie Yann Che suda tutte le volte che registra i video Eravamo un po' in crisi sinceramente perché qua gli spazi sono abbastanza ridotti Non sapevamo dove metterla per comunque avere un bel look da punto di vista estetico Ma ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti Tra l'altro ragazzi vi faccio notare che le luci in questa stanza ad esempio sono dimmerabili Come potete vedere quindi posso scegliere bene l'intensità E ovviamente tutte le luci connesso alla centrale all'ingresso Dunque quando io ad esempio sto uscendo con il semplice tap di un bottone Ho la possibilità di spegnere tutta la casa o di comandare comunque tutto l'impianto tutto insieme Dunque nel corridoio abbiamo questo specchio che abbiamo messo sempre per rendere l'ambiente un po' più grosso Ma anche perché dietro avevamo l'ispezione delle tubature della casa E vi porto dunque nella parte della casa che sinceramente mi sta più a cuore e mi gasa di più di tutte Ovvero il mio ufficio Finora diciamo che nella mia casa a Bergamo, quella con i miei genitori Io vivevo sempre solo ed esclusivamente nella camera Che era il mio ufficio, era il luogo dove svagavo, luogo dove studiavo, luogo dove facevo veramente tutto E qua l'idea di poter dividere anche solamente la zona relax dalla zona notte alla zona lavoro Mi gasa veramente tantissimo A proposito di lavoro ovviamente qui edito tutti i miei fantastici video E faccio la contabilità di quella che da quest'anno è diventata ufficialmente la mia attività Voglio condividere con voi una piccola chicca Io mi ricordo che appena ho fatto i 18 anni sono andato ad aprire la partita IVA Ed ero veramente in crisi totale Mi ricordo che avevo 17 anni, stavo per compiere i 18 e non ero gasato perché stavo per diventare maggiorenne Ma ero al contrario preoccupato perché dovevo aprire la partita IVA Ecco visto che so che tantissimi di voi tutte le volte mi scrivono nei commenti Ma se volessi farlo youtuber anch'io, se volessi aprire questa attività cosa dovrei fare? Vi voglio consigliare Fiscozen che è un servizio che se ci fosse stato al mio tempo O meglio se io lo avessi scoperto Avrei utilizzato, avrei anche risparmiato un botto di soldi Servizio che è ovviamente composto da un team di esperti, un team di consulenti Che vi aiuterà nell'apertura, nella gestione, nella chiusura, qualsiasi cosa che riguardi la vostra partita IVA E che vi darà la possibilità con una semplicità immensa dal loro portale di fare la fatturazione elettronica Di controllare in qualsiasi momento voi vogliate quante tasse, quanti contributi voi dovete pagare Addirittura vi aiutano per l'F24, per la dichiarazione dei redditi, tutte quelle robe che sono complessissime Bisogna sempre farsi aiutare da 50.000 persone Loro vi aiutano con la vostra attività dalla Z, dall'inizio alla fine E soprattutto tramite la possibilità di chattare o chiamare i loro consulenti fiscali dedicati a ciascuno di voi Avrete la possibilità di fare qualsiasi tipo di domanda In modo tale da non causare problemi che quando si tratta di partita IVA e cose di questo tipo rischiano di diventare importanti In particolare il team di Fiscozen ha deciso di farci un enorme regalo Infatti i primi 50 di voi che cliccheranno il link che si trova qui sotto nella descrizione Avranno la possibilità di organizzare una consulenza totalmente gratuita con un loro esperto Vi darò la possibilità di capire un po' che cosa fare e che cosa non fare nel caso in cui vogliate aprire una vostra attività E nel caso in cui vogliate trasformarla appunto in un lavoro come un po' il percorso che ho fatto io in questi anni E in più a tutto questo utilizzando sempre il link qui sotto nella descrizione Avrete anche 50 euro di sconto sull'abbonamento sul vostro primo anno Continuando con il tour, i più nerd di voi conosceranno sicuramente questa sedia Che ho cercato e ricercato fino allo sfinimento È un Herman Miller in body ed è sostanzialmente la sedia che si utilizza quando si lavora tanto seduti Aiuta tantissimo la postura, ti aiuta a non spaccarti la schiena Perché quello che voi non vedete è che io sto veramente tante ore seduto ogni singolo giorno E in tutti questi anni mi è successa una roba bruttissima Ovvero che mi sono praticamente spaccato la schiena Ho diventato tutto gobbo e ho iniziato infatti un anno fa a fare fisioterapia apposta per questo motivo E a proposito di schiena, comodità e salute ho deciso di acquistare questo tavolo Che non solo è una scrivania ferma come vedete in questo momento Ma ha addirittura la possibilità di alzarsi fino ad un'altezza particolarmente elevata In modo tale da permettervi di lavorare anche da in piedi Che sembra una banalità ma ogni tanto alternare la seduta dallo stare in piedi Ha sicuramente la sua importanza e fa veramente molto bene al nostro corpo Come macchina principale avrete visto nei mesi precedenti che ho questo Mac Studio con M1 Ultra Ho in mente fin troppo per quello che devo fare Anche perché da quest'anno ho delegato parte del montaggio dei miei video Però quando ho bisogno di fare cose di fretta, di esportare, fare progetti particolarmente complicati Ho la possibilità di farlo senza nessun tipo di problema Invece qua vedete questa bestia che mi è stata mandata da Intel Che è un Intel NUC che è super super piccolo come vedete Super compatto, super leggero Ma è un PC raga che è devastante, è super potente Pensate che al suo interno ha un i9 Ed ho pensato di portarlo in questa casa nuova e soprattutto in questo ufficio Perché non disponendo del sistema Windows avrò la possibilità di utilizzarlo con un PC bello potente E magari un domani, non so, fare delle streaming su Twitch, cose di questo tipo Oppure fare anche un po' di gaming per i fatti mail sfruttando tutta la sua potenza Quindi grazie mille Intel, anche per loro comunque il link è qui sotto nella descrizione Qui dietro di me, anche come sfondo per i video che vedrete Ho deciso di preparare questi quattro caschi Che sono anche quelli che io preferisco un po' di più della mia collezione Di qua invece abbiamo questa gigantografia che mi è stata regalata da mio zio Che tra l'altro è una fotografia che è stata scattata dal caro Lele che sta dietro la fotocamera E come vedete abbiamo riempito incassando nella parte posteriore dei led azzurri E che dà veramente un bel effetto alla stanza Detto questo, sono sicuro che penserete che il bello sia finito Ma in realtà anche la parte di là mi piace veramente da morire Per cui la faccio vedere per bene Questa qui sarebbe la mia stanzettina Anche di qua esattamente come dalla parte opposta abbiamo questo specchio Con questo effetto fumè È un armadio quindi all'interno Venga che le faccio vedere la cromia delle mie felpe Ci sono tutti i miei vestiti Di qua abbiamo ovviamente il letto Che questa volta è matrimoniale finalmente rispetto a casa mia Quindi posso spapparanzarmi con molta più serenità Tra l'altro anche questo letto si alza Così da avere la possibilità di fare un po' di storage qua sotto Che siano coperte o lenzuola Insomma da utilizzare un domani È comodo averle qui e non nell'armadio Di qua invece abbiamo l'ultima parte di questa casettina Che sarebbe il mio bagno Sono veramente felice di come sia uscito questo bagno Mi piace tantissimo come ambiente La logica ovviamente è quella che un bagno Sarebbe quello degli ospiti Di tutte le persone che vengono a casa mia Invece ho la possibilità di avere le mie cose La mia privacy Senza che qualcuno venga Mi tocchini, sporchi, faccia La cosa che mi piace in particolare di più di tutte È questa doccia che è nettamente più grande rispetto all'altra È nettamente più grande rispetto a quella che ho a casa mia Abbiamo fatto mettere qui questa mestolina in cristallo Con sopra campo, bagno schiuma e cose varie E con le luci a led che avete visto anche nell'altro bagno Dimmerabili Vi ho la possibilità di rilassarti E farti veramente una docciona come si deve Ovviamente anche di qua poi abbiamo il water Con la famosa asse che va giù piano Ovviamente in questo momento fuori è giorno Dunque non ho la possibilità di farvi vedere questo appartamento Come si comporta nella sera Penso abbiate notato E io apprezzo tantissimo questa cosa Che è pieno di luce naturale Che sia l'ufficio Che sia il salotto La camera È tutto veramente super luminoso Super carino Ed è un mood che a me piace tantissimo E mi rende un botto produttivo Anche in giornate come quella di oggi Che è brutta Sembra quasi che debba venire a piovere Ma vi posso assicurare che anche la sera Grazie alle varie luci che abbiamo messo Si creano sempre dei mood bellissimi In particolare io sinceramente adoro Questi farettini Che sono incassati in questo controsoffitto Che quando sei lì a guardarti la tele Dopo che hai finito di cenare Ti tieni acceso Entra un pelino di luce anche della sera Riesci a guardare la tua tele senza problemi Qua dietro vedi la luce calda Veramente raga Una super figata Tra l'altro non ve l'ho nominato Ma qua ovviamente c'è anche questo puff Così da dare un pizzico di colore in più A tutto l'ambiente Se siete arrivati fino a questo punto Ho una piccola cosuccia da dirvi Ovviamente Essendomi io trasferito in questo appartamento Dovevo anche avere del posto auto Dovevo avere un garage Infatti di sotto c'è un garage Abbastanza ampio All'interno del quale c'è la mia macchina Le mie moto Tutte le mie varie cose Ma che non vi farò vedere in questo video Perché penso proprio che si meriti Una parentesi dedicata Come ho fatto in passato Con il garage della casa Della mia famiglia Probabilmente questo video Arriverà verso ottobre Settembre Quando magari vi farò anche Un altro tour della casa Un po' più finita rispetto ad oggi E vi farò appunto vedere Tutto il garage Con i mezzi che ci saranno all'interno Ovviamente però se pensate Che questo contenuto vi possa interessare Fatemelo sapere Con un commentino qui sotto Facendomi anche sapere Che cosa ne pensate Di questa casa Che sinceramente Sono veramente felicissimo Di come sia uscito Abbiamo disegnata È stato complicato raga Stare dietro al cantiere È stato difficilissimo Del motivo principale Per cui in tutto questo periodo Magari i video erano Un po' più tranquilli Rispetto al solito Ero molto più assente Su Instagram Perché mi dedicavo Ogni singolo giorno Per tantissime ore A stare qui A seguire i lavori Controllare una cosa Controllare l'altra L'elevare l'elettricista Il cartongessista E poi ti sistema l'idraulico Con la determinata cosa È stato veramente Un disastro incredibile Però alla fine dei conti Secondo me Ne è veramente valsa la pena Fatemi sapere dunque Che cosa ne pensate Anche voi Lasciate un bel mi piace Se questo video vi è piaciuto Nel caso in cui questo Fosse il primo video Che avete visto Del caro Eddie Yann Iscrivetevi al mio canale Faccio video riguardante Il mondo dei motori Ma penso lo abbiate capito Dai caschi che ho in giro Per la casa Noi ragazzi Ci rivediamo in un prossimo video E Adios